La crisi probabilmente alle spalle, i balneatori sono pronti a ripartire. A maggio inizierà la nuova stagione che si spera possa essere foriera di soddisfazioni come spiega ai nostri microfoni il presidente della Sib Abruzzo Riccardo Padovano che ripropone fortemente l'idea del mare d'inverno per una stagione di 365 giorni. Si deve partire col sorriso perché il mare è allegria, il sole illumina tutta la città ma illumina la gente. Alle mie spalle vedete già le nostre attività sono a pieno regime. Questa è una di quelle questioni che abbiamo affrontato la scorsa settimana con la regione per avere il cosiddetto mare d'inverno. Oggi è la giornata di Pasqua, il nostro lungomare è pieno di gente. Queste sono le notizie che noi dobbiamo dire all'opinione pubblica, alla gente. Ridare il sorriso perché ci sono tante notizie triste. Le notizie triste purtroppo appassiscono anche la società. Per fare questo che dobbiamo fare? Noi stabilimenti balneari che ruolo abbiamo? Noi abbiamo il ruolo di far stare bene tutti i cittadini. L'obiettivo è che ai primi di maggio siamo già pronti per partire, molto probabilmente anticiperemo di due giorni l'apertura della stagione balneare e quindi significa che il servizio di salvamento, significa che tutte le postazioni di sicurezza in mare sono ad hoc. Per chiudere, Padovano, nei giorni scorsi avevate lanciato anche un appello a molte persone, molti ragazzi, perché voi avete bisogno di lavoratori stagionali e voi avete avuto anche qualche difficoltà, state avendo delle difficoltà a trovare lavoratori stagionali per le spiagge? Questo è un problema che adesso lo stiamo affrontando. Abbiamo cercato anche di assumere persone che sono rifugiati dall'Ucraina. Abbiamo qualche difficoltà ai fini della burocrazia, però abbiamo bisogno veramente di personale. Abbiamo personale di cucina, di sala, camerieri, steward di spiaggia, direttore di spiaggia. Abbiamo bisogno di tante unità lavorative. Contattateci, il nostro ufficio e la Confcommercio hanno aperto lo sportello per ricevere le segnalazioni. Tante strutture balneari, compreso gli alberghi, i ristoranti, sono carenti sotto questo aspetto. Cerchiamo il personale, noi siamo ad accogliere anche questa opportunità.